Enti locali prestigia come Forza Italia, governo giudica positivo lavoro MEF su comuni e con provincia di Siracusa per evitare dissesto. Nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Vice Ministra dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli ha risposto in maniera molto precisa ai quesiti posti da Forza Italia sulla situazione finanziaria dei comuni e delle province. Questione di primaria importanza perché il default degli enti finanziariamente più esposti si tradurrebbe in gravi disservizi per i cittadini e potrebbe compromettere l'itere di alcuni capitoli di spesa presenti nel recovery plan, rallentando in questo modo la ripresa dell'intero Paese. Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. Nel dettaglio la parlamentare azzurra evidenzia come da parte del governo ci sia stata una presa d'atto della grave situazione finanziaria in cui versano numerosi enti locali, annunciando che il MEF sta studiando le soluzioni più opportune affinché i comuni più in difficoltà possano gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'accento è stato posto anche sul tema delle assunzioni, sul quale Castelli ha assicurato che quelle legate al Piano saranno libere dai vincoli imposti per i comuni in difficoltà. Prestigiacomo sottolinea come la viceministra ha anche definito come positivo il lavoro che il MEF sta facendo con la provincia di Siracusa per consentirle di uscire dalla situazione di crisi. Insomma si è avviato un percorso virtuoso che vede lo Stato in prima linea nel sostegno attraverso interventi mirati agli enti locali in oggettiva difficoltà economica.